Eccoci nuovamente in diretta, adesso noi ci vediamo la rubrica tradizionale o la borsa o la vita curata da Paolo Turati che ci porta a scoprire il mondo della finanza e dell'economia mondiale. Grazie. Settimana effervescente sui mercati internazionali, intonata sostanzialmente dal bilancio dell'Intel. Questa azienda di cui tutti noi siamo utenti in qualche modo ha chiuso un bellissimo bilancio con 54 miliardi di fatturato ma la cosa importante è 17 circa di margine operativo d'ordo e quasi 13 margine netto. Quindi questo dimostra che ci sia una certa ripresa nell'ambito della tecnologia e questo diciamo che è il titolo core assolutamente considerabile a livello mondiale. Spread italiani assolutamente in calo, oggi siamo a 412 punti quindi diciamo che a livello internazionale l'azione del governo Monti viene percepita come positiva. Non è solo questo ovviamente, il fatto che la Grecia sta sostanzialmente chiudendo la rinegoziazione del proprio debito, si parla di un haircut di circa il 70% per quanto riguarda i possessori dei bond greci. Situazione direi abbastanza effervescente sul mercato dei titoli azionari bancari, abbiamo parlato prima di unicredito ma sostanzialmente si stanno muovendo a rialzo in maniera molto importante le tre principali banche cosiddette in difficoltà in Italia, cioè Banco Popolare, Ubi Banca e Montepaschi che con quattro soldi effettivamente oggi potrebbero essere oggetto di un'opera, valgono ormai pochissimi soldi in borsa e effettivamente c'è un po' una corsa diciamo a prendere delle posizioni di un certo tipo. I circa 15 miliardi che l'EBA, cioè la European Bank Authority, ha stimato come necessari per i titoli bancari italiani principali per poter essere ricapitalizzati in maniera efficiente, cioè 7 miliardi e mezzo per unicredito e per le altre tre che abbiamo menzionato prima, altri 7 miliardi circa, probabilmente non saranno neanche necessari in quanto c'è in corso un'azione di negoziazione per far valutare i prestiti obbligazionali convertibili e far pesare determinati smobilizzi sul mercato da parte di questi istituti. Certamente resta un fenomeno di bassa capitalizzazione e infatti abbiamo delle grosse riprese azionari in questi momenti, parliamo di cifre doppie, di double digit sostanzialmente giorno su giorno, proprio perché ci si rende conto che effettivamente in questo nostro Stato dove la Banca d'Italia è controllata azionariamente da due istituti bancari che dovrebbe controllare, ebbene sostanzialmente le banche hanno ancora un potere che lo vediamo in questi giorni in borsa, sa manifestarsi anche con un certo dinamismo.